Uniche attività rimaste al palo in questa fase di ripartenza, le discoteche e le sale da ballo con le relative eventuali riaperture saranno al centro della riunione al Ministero della Salute tra Roberto Speranze e gli esperti del CTS. Per ora di riaprire non se ne parla è la posizione di Speranza che lascia un margine di apertura a luglio riservando le discoteche a chi ha pass vaccinale. Obiettivo confermato in quello a medio termine, illustrato ieri alla Camera del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid Filgolo. Anche per il sottosegretario alla Salute Costa il Green Pass potrà essere lo strumento per tornare a ballare in sicurezza. L'ipotesi è quella di riaprire cominciando con i locali all'aperto, sarebbe un'idea già a luglio per me il mese giusto, sottolinea Costa. Per riaprire le discoteche serviranno nuovi protocolli. Non possiamo riaprire commettendo l'errore di usare il criterio del distanziamento. La discoteca è il luogo in cui per definizione è impossibile mantenerlo. Bisognerà ragionare su altri parametri.